Prego. Allora, il segretario fa l'appello. Sono le ore 17.01. Melillo assente, Daliasi assente, Medugno assente, Guerriero assente, Cuciniello Giovanni assente, Cesa presente, Urcioli presente. Usuoli, Gaeta assente, Cosmo assente, Di Sapio assente, Iacovacci assente, Russo assente, Cipriano assente, Giordano Marietta assente, Giordano Nicola assente, Picariello assente, Spiezia assente. Iacovacci assente, Iacovacci assente, Iacovacci assente, Ma tu com'è che sei arrivato? Iacovacci è presente, Iacovacci è presente o assente, Emo tante volte ascoltiamo e poi sappiamo che c'è un'assenza invece. Allora, consigliere Iacovacci, innanzitutto stiamo facendo l'appello, prima cosa. Quindi non c'è, dopo di che se ha qualcosa da dire accende il microfono e registriamo quello che dice, altrimenti non dice nulla. Va bene, grazie, grazie per la presenza. Quindi allora, Iacovacci presente, Stavano Iandolo presente, Santoro presente, Preziosi Costantino assente, Iannuzzi assente. Quindi i presenti sono 1, Maggio, Cesa, 2, 3, Ussuoli, 4, Iacovacci, 5, Iandolo, 6, Santoro. Allora, sei presenti, la seduta viene dichiarata deserta per mancanza del quorum istituzionale. Sì, 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 no, il segretario dice di no, ma dall'inizio non parte affatto perché manca il quorum istituzionale. No, e non può fare dichiarazione perché non ha inizio il Consiglio Comunale. No, non può iniziare perché manca il quorum istituzionale, te lo ripeto nuovamente. Quindi a questo punto la seduta è rinviata a domani in seconda convocazione alle ore 9. Ringrazio i presenti, le 9 per le 10 chiaramente, ringrazio i presenti e saluto tutti per la partecipazione. Grazie. Ma questo non è un compito, questa è una cosa che può fare una dichiarazione. Grazie.